Io racconto una cosa di Garibaldi che secondo me rende l'idea di quello che ci siamo dimenticati. A un certo punto nel 64, dopo quindi l'impresa dei Mille, anche dopo Aspromonte, ormai è praticamente pensionato Garibaldi a Caprera, viene invitato ad andare in Inghilterra. Lo invitano e lui accetta di andare. Appena si viene a sapere che Garibaldi ha accettato di andare in Inghilterra, una compagnia di navigazione inglese gli manda un piroscafo apposta, deviandolo dal suo percorso normale, per andare a prenderlo. Lo portano in Inghilterra. Quando il piroscafo arriva al largo della costa inglese, del porto di Southampton, è una base navale della flotta di sua maestà britannica, la squadra da guerra inglese esce dal porto di Southampton in onore di Garibaldi che sta arrivando e organizza una manovra a fuoco in suo onore. Quando arriva a Southampton c'è un treno speciale per portarlo a Londra, interamente coperto di bandiere italiane, di bandiere tricolori. Lo portano a Londra, quando arriva a Londra, Garibaldi, ci sono in piazza 500.000 persone che lo aspettano, secondo la questura, non secondo gli organizzatori, è una cifra garantita al minimo, anzi. Ci mette sei ore per andare dalla stazione alla casa del duca di Sutherland che doveva ospitarlo. Dopodiché, mentre lui è ospite in quella casa, varie settimane si ferma, le domestiche di casa vendono alla porta di servizio bottiglie dell'acqua in cui Garibaldi si è lavato la faccia al mattino. Ecco, a Londra, c'è una sola persona a Londra che è disgustata di tutto questo, la regina Vittoria, che dice, ah gli inglesi lo scrive nel suo diario, sono veramente impazziti per Garibaldi, e non capisco, è un capo rivoluzionario. Ecco, gli inglesi sono impazziti per Garibaldi, dalle duchesse alle domestiche, dai ministri agli operai, perché lui viene invitato sia a pranzo col primo ministro, sia alle riunioni delle società operaie inglesi e dei sindacati, dove si congratula per i grandi successi della classe operaia inglese, del proletariato inglese, la classe dice a cui mi onoro di appartenere. Ecco, questo è l'uomo. Noi ci siamo un po' dimenticati di quant'era celebre e di quant'era amato, no? Ecco, e invece è così. Certo, quindi questo, il nostro, sarebbe un riflesso tutto sommato abbastanza pallido di ciò che Garibaldi era all'epoca. È molto vero quello che dici, tra l'altro, tempo addietro, ho letto il diario di una viaggiatrice inglese, una giornalista che viene proprio a Caprera per onorare Garibaldi, per conoscerlo, eccetera. Poi ad un certo punto racconta questa donna che Garibaldi la assale tentando di violentarla. È una cosa molto, anche questa è una chicca molto particolare su questo personaggio. C'è dunque un Garibaldi sovversivo che si ribella protestatario, ma c'è anche un Garibaldi stratega. Ce ne vuoi parlare? Garibaldi, uno dei motivi per cui all'epoca era molto amato in Italia è perché si sentiva che aveva reso agli italiani l'onore militare. Cioè aveva dimostrato, lo scrivono tutti, ha dimostrato al mondo che anche gli italiani sanno battersi e morire per il loro paese. Cosa di cui oggi possiamo fare bene, ma nelle condizioni di allora era invece una cosa significativa. È credo il più grande generale italiano degli ultimi secoli. È un grandissimo generale Garibaldi, a suo modo in alcune cose. È un grandissimo comandante di partigiani, di truppe irregolari, però quando si trova a comandare 50.000 uomini al volturno regge abbastanza bene. Vince quasi sempre Garibaldi. Garibaldi è un uomo, come dire, ha una intuizione naturale di come si fa la guerra, di come si tengono in pugno i soldati. Potrà non essere questione di grandi disegni strategici, ma sul campo di battaglia non ce n'è nessun altro come lui di italiano, ripeto, da secoli che sia all'altezza di Garibaldi. Garibaldi nel 70, quando scoppia la guerra franco-prussiana e in Francia cade l'imperatore Napoleone III, grande nemico di Garibaldi. L'aveva sconfitto a Mentana, per esempio, impedendogli di prendere Roma, quindi Garibaldi con i francesi non dovrebbe avere simpatia. Però cade Napoleone III, i francesi fanno la repubblica e questa è una cosa che a Garibaldi piace, perché Garibaldi è sempre stato un repubblicano pur servendo i Savoia perché gli sembrava che non ci fosse altro modo di fare l'unità d'Italia. I francesi fanno la repubblica e questo Garibaldi piace. Chiedono la pace alla Prussia e la Prussia non concede la pace, continua a invadere la Francia. A Garibaldi gli prudono le mani. Ha 60 anni, è molto malandato in salute, è artritico, non riesce più a stare a cavallo, deve muoversi in carrozza, sta malissimo, ma gli viene voglia di andare a fare la guerra ancora una volta. Arriva in Francia, i francesi gli affidano un comando, riesce a vincere una battaglia contro i prussiani. È l'unico generale francese che in quella guerra disgraziata cattura una bandiera di un reggimento prussiano. Puoi immaginarti i francesi come erano contenti, fra l'altro, perché venuto dall'Italia, infatti poi lo trattano malissimo. Questo per dire che Garibaldi è un uomo di guerra istintivo straordinario e però è anche un grande organizzatore della guerra. Perché non dimentichiamoci, una delle cose un po' ridicole che alimentano oggi le polemiche contro Garibaldi è il dire ah ma l'ha finanziato la massoneria, no ecco, o l'ha finanziato l'Inghilterra. E ci credo. La guerra costa carissima, le rivoluzioni costano carissime. Garibaldi, prima di condurre gli uomini in battaglia, ha dimostrato sempre una grandissima capacità di organizzarli gli uomini e di trovare i finanziamenti e di comprare le armi e le munizioni e le divise e di organizzare le forze. E questo è altrettanto fondamentale. Garibaldi, può essere considerato a tuo avviso l'anello di una catena che dal risorgimento, passando attraverso la resistenza, conduce alla costruzione dell'Italia attuale, democratica, così come noi la conosciamo? Cioè c'è questa sorta di filo? O ritieni che ad altri debba essere attribuita questa paternità? No, no, il filo c'è, nel senso che, voi lo sapete, nel momento dell'unità italiana in Italia si scontrano posizioni politiche molto diverse. C'è una minoranza conservatrice, clericale, che non vorrebbe neanche l'unità d'Italia, a cui stanno bene le monarchie tradizionali, con le loro corti, con il loro diritto divino. C'è una minoranza che la pensa così ben inteso. Sto parlando dell'opinione pubblica, di quelli che leggono i giornali, discutono di politica, non delle masse contadine che ne sanno molto poco, ovviamente. E poi, però questa è una posizione minoritaria. La posizione più forte, quella incarnata da Cavour, da Vittorio Emanuele, vuole un'Italia unita e un'Italia liberale, parlamentare, però monarchica, moderata, Parlamento sì, partiti sì, ma non certo il suffragio universale, anzi il voto riservato a chi ha un certo reddito. E questo l'Italia che esce dal risorgimento. In quell'Italia Garibaldi ha sempre incarnato la posizione, magari non estremista come Mazzini, che era considerato allora come oggi noi consideriamo Osama Bin Laden, cioè uno che mette le bombe, o meglio che fa mettere le bombe. Ma Garibaldi ha sempre incarnato la posizione forte in Italia, già allora, ma non maggioranza, che voleva di più. E in realtà pian piano le cose che lui avrebbe voluto subito sono poi venute fuori. Lui voleva la Repubblica, non la monarchia. Alla fine c'è la Repubblica. Lui voleva il suffragio universale, non il suffragio limitato a chi ha un certo reddito. E alla fine si è arrivato il suffragio universale. Garibaldi, grande uomo di guerra, come dicevo, in vecchiaia si scopre antimilitarista. In Parlamento vota contro i crediti per comprare, per allargare l'esercito. E anche in quello l'Italia di oggi gli assomiglia di più, tutto sommato, che non quella del suo tempo. Quindi Garibaldi è uno molto di sinistra, ma che non vuole fare la rivoluzione. Che trova che la rivoluzione è una cosa sbagliata, un cataclisma, per questo non piace a Marx Garibaldi. Ecco, Marx è l'unica altra persona insieme alla regina Vittoria, che quando Garibaldi va a Londra e viene acclamato, lui ci rimane un po' male, perché trova Marx che Garibaldi è un dilettante. In effetti Garibaldi non vuole la rivoluzione comunista, vuole elevare le condizioni del proletariato il più possibile, ma attraverso le lotte sociali, le lotte sindacali, le riforme. E anche questa è una strada che insomma indiscutibilmente, non dico l'Italia di oggi, che fa un po' paura certe volte, ma l'Italia di ieri, che abbiamo ancora conosciuto, certamente è figlia di tutto questo. Quindi tu dici un socialismo riformista più che una forma di comunismo alla Marx, per capirci. Io dico, lui lo dice, Garibaldi diceva di se stesso, io sono un socialista. Aveva, come dico... Anche un po' utopico per alcune idee. Ma ecco, lo strano è questo, quando si discute del Garibaldi politico, i suoi contemporanei dicono tutti, sì, grande combattente, ma come politico non vale niente. È ingenuo, si fa manovrare, e in effetti come uomo di governo Garibaldi non funziona bene. Quando assume la dittatura in Sicilia, e poi la dittatura a Napoli, durante l'impresa dei Mille, le testimonianze sono abbastanza universali sul fatto che gli scappa tutto di mano, che è circondato dalla gente sbagliata, non è un uomo di governo. Però questo non vuole ancora dire che fosse un utopista, perché quando invece si parla di prendere posizioni politiche su cose specifiche, io devo dire che Garibaldi prende quasi sempre posizioni che appaiono molto moderne, e che almeno io personalmente condivido, ecco, diciamo. Sul carattere di Garibaldi che cosa conosciamo? Sai, il carattere, cos'è il carattere? È difficile dirlo, perché è un uomo di entusiasmi, per esempio. È un uomo di fede, nel senso che di fede nelle cause. È un uomo che si batte, che ha bisogno di battersi per una causa. Lui lo scrive anche nelle sue memorie, racconta quando da giovane, faceva il marinaio lui, trasportava un gruppetto di francesi che aderivano alla setta dei sansimoniani. E lui non ne ha mai sentito nominare a questi sansimoniani. Si fa spiegare chi sono e loro gli dicono che loro credono appunto nel socialismo, nell'uguaglianza, nella fratellanza fra tutti gli uomini, nell'uguaglianza fra uomo e donna, ma anche nella lotta contro i tiranni, nella lotta per la libertà, nel fatto che l'uomo deve battersi per la libertà, essere disposto a morire per la libertà. Ecco, Garibaldi vecchio, chissà se inventava, ma Garibaldi vecchio dice io da giovane ho sentito dire queste cose e ci ho sempre creduto, ecco. E lui ha voluto essere uno che tirava fuori la spada ogni volta che c'era da battersi per una buona causa. Questo entusiasmo ce l'aveva. Poi probabilmente, voglio dire, è lo stesso entusiasmo per cui è andato a letto, ha cercato di andare a letto con quasi tutte le donne che ha incontrato in vita sua, perché comunque era un uomo, come dire, un po' primitivo in certe cose e, come dire, che faceva fatica a reprimersi. Se uno dovesse vederlo con i nostri criteri di oggi ci sono aspetti della sua vita che non sono politicamente corretti, ecco, indubbiamente. Però il personaggio è organico in questo invece, secondo me, nel crederci, nel crederci fino in fondo e nell'investire fino in fondo se stesso e nel non volere un soldo. Perché questa è l'altra cosa che in tutte le testimonianze dell'epoca, comprese quelle dei suoi avversari, perfino il regino Vittoria lo dice, è uno che non ha mai preso un soldo, completamente privo di interesse personale e economico. Poi la gloria gli piaceva, certo. Essere un grande eroe agli occhi di tutto il mondo gli piaceva e come, ma mi sembra anche il minimo. Ci prendiamo adesso dieci minuti per l'ultima domanda, alle otto chiudiamo, e riguarda la spedizione dei Mille. Noi viviamo in Calabria, come sai, la Calabria è stata profondamente attraversata dalla presenza di Garibaldi. Ti chiederei intanto qualche cosa che riguarda la spedizione dei Mille, soprattutto aspetti magari inediti che non conosciamo. La spedizione dei Mille fa parte del, appartiene al mito garibaldino. E poi magari se ti viene in mente qualche cosa su Garibaldi e la Calabria. Ma dunque, diciamo questo, noi nei libri di storia siamo abituati a vedere una concatenazione di eventi, no? C'è la seconda guerra di indipendenza, nel 59, Solferino, armistizio di Villafranca, l'annessione della Lombardia, a questo punto i plebisciti e tutto il centro nord che diventa un nuovo regno d'Italia. E subito dopo a seguire l'impresa di Garibaldi e quindi anche il sud viene unificato al resto d'Italia. Nella vulgata è una sequenza irresistibile, no? Sono cose strettamente collegate. Invece la prima cosa che va detta, ciò che va detta, che si scopre se si va a leggere le lettere e i memoriali del tempo e che l'impresa dei Mille arriva come un fulmine a ciel sereno sulla testa di Cavour e di Vittorio Emanuele, i quali hanno appena fatto la seconda guerra di indipendenza. Hanno realizzato il loro programma del momento, perché l'unità d'Italia era un obiettivo a lunga distanza, tutti la volevano, ma nessuno pensava che si facesse subito. Cavour pochi anni prima ha detto una corbelleria, pensare di farla subito in un'unità d'Italia. Quindi la classe dirigente risorgimentale del nord sta ingoiando questo grossissimo boccone, no? Si è riusciti a buttare fuori gli austriaci, non ancora dal Veneto, però dalla Lombardia sì, a creare un regno d'Italia. Ci sono complicazioni amministrative immense per mettere insieme questo nuovo regno, difficoltà, opposizioni e enormi problemi. Sono dentro fino al collo tutti in questa cosa. E a questo punto si comincia a sentir dire che questo matto scatenato di Garibaldi ha emanato un proclama e che tutti i suoi amici vadano a trovarlo e sta comprando armi e cercando finanziamenti. E certo, nel frattempo la Sicilia è insorta. La Sicilia da sempre si è considerata come un'altra cosa rispetto al mezzogiorno continentale, da sempre ha subito il governo borbonico come un governo straniero, odiato, la classe dirigente siciliana innanzitutto. E quindi la Sicilia, come ha fatto anche altre volte in passato, come ha fatto anche nel 48, nel 60 è insorta. Garibaldi dice andiamo a aiutare gli eroici siciliani. Il governo di Cavour non è particolarmente entusiasta di questa cosa. Intanto perché c'è ben altro da fare, intanto. E poi perché fuori dal nuovo regno d'Italia non è rimasto soltanto il regno di Napoli, delle due Sicilie, è rimasto anche lo Stato pontificio. E Garibaldi, cosa che non ho detto ma che non si può dire tutto, è anche un feroce anticlericale che odia e non del tutto a torto, devo dire, il Vaticano del suo tempo, che è estremamente oscurantista e reazionario in quel momento. E dunque, e se Garibaldi invece di andare in Sicilia va a sbarca qualche altra parte e va a attaccare Roma? Catastrofe politica internazionale, non si può. Quindi a Torino sono seriamente preoccupati. Poi decidono di lasciarlo partire proprio perché, lo dice Cavour, Garibaldi è talmente celebre, talmente amato non solo in Italia ma in Europa, che mettersi contro di lui in questo momento non si può fare. Ci giochiamo l'Italia, dice Cavour. Allora lo lasciano andare. E parte coi mille, dei quali una cosa che forse ormai tutti sanno però perché ci si è scherzato molto è che la maggior parte sono bergamaschi. Quindi non della zona d'Italia attualmente più entusiasta dell'Unità d'Italia, no? Ecco, la singola provincia che ha fornito più Garibaldini è la provincia di Bergamo. Paradossi della storia. In realtà poi si spiega, quelli erano la Lombardia austriaca, erano appena stati liberati e quindi l'entusiasmo fra i giovani era immenso e quindi sono partiti in tantissimi da lì. Quelli sono i primi, mille. Ma naturalmente Garibaldi non ha conquistato il Regno di Napoli con mille uomini. Lui è sbarcato in Sicilia con mille uomini, ma la Sicilia era già in sorta. Quindi in Sicilia Garibaldi ha trovato immediatamente reparti di picciotti, come dicono già all'epoca, numerosi, sui quali non so se esiste un'analisi approfondita, certamente come dire i grandi latifondisti e i loro campieri mafiosi hanno contribuito un po' a organizzare questi reparti, perché l'aristocrazia siciliana era d'accordo con questa guerra contro il re di Napoli. E dunque le squadre siciliane sono numerose e Garibaldi prende Palermo non grazie ai mille, coi mille vince a Caratafimi ma poi basta, poi ha migliaia di uomini e poi deve sbarcare in Calabria una volta che si è impadronito della Sicilia. E qui di nuovo c'è un momento di crisi, perché il governo di Torino sarebbe tentato di dire beh fermiamoci qui, perché se quello sbarca sul continente poi non si sa dove si ferma, fermiamoci qui, la Sicilia è favorevole all'unificazione, abbiamo la Sicilia, diciamo a Garibaldi di fermarsi e poi invece non osano e lo lasciano andare, Garibaldi sbarca in Calabria. E quello che succede sostanzialmente, ma questo lo sapete meglio voi di me, io lo so soltanto così, superficialissimamente, è che anche la parte continentale del regno di Napoli è molto divisa politicamente. Cioè mentre nel nord, in terra di lavoro, in Abruzzo, in Molise, nella città di Napoli forse un po' meno, ma nelle campagne della campagna, c'è un sostegno per il governo borbonico, nel sud invece non c'è un grande sostegno per il governo borbonico, per cui le forze napoletane in Calabria si squagliano sostanzialmente, interi reparti depongono le armi e tornano a casa. E soprattutto Garibaldi continua, come aveva fatto in Sicilia, a reclutare volontari. Garibaldi che è sbarcato con mille uomini a Marsala, al momento della battaglia del Volturno ha un esercito di 50.000 uomini. Di questi 50.000 uomini molti altri sono volontari del centro nord che hanno continuato ad affluire durante tutta l'impresa, ma più di metà, circa 30.000, sono Garibaldini meridionali. Tra l'altro oggi stiamo cominciando a conoscere meglio questo mondo, perché all'archivio di Stato di Torino c'è un'immensa documentazione su quello che viene chiamato allora ufficialmente l'esercito meridionale, che è l'esercito Garibaldino. E c'è tutta la documentazione di quando lo hanno solto, mandando la gente in pensione, oppure prendendola nell'esercito italiano. Quindi ci sono le cartelle personali, non di tutti i 50.000, ma di più di 30.000 Garibaldini. E l'archivio di Stato di Torino, se continuano a dargli finanziamenti, le sta mettendo in rete tutti questi dati. Quindi sarà possibile anche uno studio statistico di questo esercito di Garibaldi. È già chiaro fin d'ora che i calabresi sono moltissimi. In grosso modo che cosa emerge? Emerge appunto che più di metà della forza di Garibaldi sono meridionali. Poi lui ha 50.000 uomini nei ranghi, ovviamente ha messo in piedi un esercito, con una burocrazia, un'amministrazione, dei comandi, divisioni, reggimenti, scartoffie, perché ci vuole tutto questo per fare la guerra. Lui l'ha improvvisato dal nulla. Non tutti i 50.000 sono con lui al Volturno, al Volturno ne ha la metà circa. Molti dei volontari meridionali sono rimasti di guarnigione nelle varie zone, i siciliani in Sicilia, i calabresi in Calabria, perché ci sono guarnigioni garibaldine in divisa, regolari, un po' dappertutto. Ma comunque anche al Volturno un contingente considerevole è fatto di meridionali e questi, a parte i siciliani, sono essenzialmente calabresi. Dove attinge i soldi garibaldi per fare la spedizione, l'impresa dei Ville? Li attinge via via, nel senso che ci sono finanziamenti di tutti i tipi. All'inizio c'è proprio una raccolta di fondi, c'è una raccolta di fondi e anche lì noi non dobbiamo immaginarci un mondo neutrale che stava a vedere, quello era un mondo di forti passioni. Quindi la causa dell'Italia Unita era una causa che suscitava entusiasmo in Italia e fuori e che faceva arrivare donazioni. Donazioni finanziarie ma non solo. Quando Garibaldi sbarca in Sicilia, gli operai di Glasgow e gli scaricatori del porto di Liverpool lavorano il sabato gratis per raccogliere armi, munizioni e viveri, inscatolarli e spedirli via mare a Garibaldi in Sicilia. In nome e per conto di quell'ideale socialista utopico di cui hai parlato prima? Sì ma neanche solo socialista perché l'idea stessa della libertà dei popoli lì era una cosa che infiammava. Noi oggi facciamo fatica a rendercene conto perché oggi le nostre priorità sono altre, i nostri popoli sono liberi e quindi si rischia di non capire neanche più bene perché loro si entusiasmavano tanto. Invece lì l'idea della lotta contro i tiranni, contro i governi assolutisti e per liberare i popoli dai governi stranieri era una cosa sentita come un grande ideale che molti condividevano nel mondo, non soltanto in Italia. Dopodiché naturalmente i finanziamenti arrivano anche da altre parti perché quando Cavour decide che bisogna sostenerla questa impresa allora arrivano anche da lì, si capisce, così come arrivano le consegne di armi, insomma c'è di tutto. Poi nel sud man mano che Garibaldi va avanti e prende il potere, perché per alcuni mesi è lui che è ufficialmente il dittatore sia in Sicilia sia poi a Napoli e quando prende il potere mette i piedi dei governi. Ha questa curiosa caratteristica che è tipica sua che lui e i suoi ministri non prendono stipendio, neanche un soldo. Però i soldi per l'esercito per fare la guerra li prende e quindi li prende il tesoro dello Stato, della Banca di Stato, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia. Ovviamente tutto questo viene preso, usato, speso, rendicontato, perché poi ci sono tutti i rendiconti, finirà nel debito nazionale dopo e ci saranno grossissimi problemi per mettere a posto tutto ovviamente. È chiaro che facendo la guerra la si fa con quello che si trova. Forse c'è ancora qualche strascico che ci portiamo dietro. Ma no, perché Quintino Selle aveva raddrizzato tutto nel 1865, era di nuovo in pari il bilancio. La gente moriva di fame con la tassa sul macinato, però il bilancio l'avevano rimesso in pari, quindi no, non ci portiamo dietro niente. Certamente. Per concludere, cosa hanno in comune questi tre personaggi che abbiamo voluto esplorare a parte i tuoi interessi di storico? Possiamo tessere una sorta di rapporto tra questi tre grandi personaggi? Cioè, sono uomini che hanno fatto la storia, non a caso abbiamo intitolato in questo modo il nostro incontro. Noi storici ormai naturalmente ci interessiamo alla vita di tutti e non soltanto a quella dei grandi personaggi. Nel senso che se io potessi trovare dei documenti che mi dicono cosa pensava e cosa faceva al mattino un contadino medievale, voglio dire darei un anno di vita per poter sapere che cosa pensava quando si svegliava un contadino medievale. Quindi noi ci interessiamo alla vita di tutti naturalmente. però poi ci sono personaggi che lasciano un'impronta perché? Perché si trovano a prendere delle decisioni. E lì è inevitabile, sono o i capi di governo, o qui in comune fra tutti e tre. Ma forse non c'è niente perché ce ne sono due che si sono fatti da sé. Napoleone non era nessuno e Garibaldi non era nessuno. Loro si sono fatti da sé. Carlo Magno no, è nato figlio del re e quindi lì non è merito. Sono tutti e tre grandi uomini di guerra in modi diversi perché Carlo Magno non ha mai fatto una battaglia in vita sua, non andava a combattere personalmente, era uno stratega, un organizzatore. Però sono tre grandi uomini di guerra e questo ci fa anche riflettere sul fatto che molto spesso quando noi diciamo un grande personaggio storico, spesso sono i macellai quelli che diventano i grandi personaggi storici. Eppure noi esseri umani li ammiriamo. Comunque c'è qualcosa in noi che ci fa ammirare, i grandi uomini di guerra ed è una stortura nostra su cui dovremmo forse riflettere. Poi hanno in comune il fatto che tu mi hai proposto di parlare di loro tre e questo mi sembra decisivo. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.